In casa Lega, subito dopo i risultati non eccezionali, anzi decisamente deludenti delle amministrative, è montata un po' di maretta, soprattutto nei territori delle regioni del nord, nel tradizionale feudo della storica Lega Nord, anche perché a quattro anni dal referendum per l'autonomia in Lombardia e in Veneto, di autonomia di Ancora non se ne è vista la traccia. Cari amici vicini e lontani, bentornati a questa puntata dello Schiacciasassi, da parte di Stefano Elena e se starete con noi fino alla fine della puntata vedrete anche come il nostro Domenico Lacava interpreta a modo suo, in modo ingraffiante ed ironico la situazione. Si diceva della Maretta che sta montando in casa Lega, con tante persone, tanti personaggi di rilievo attuali e passati, che stanno criticando l'azione di governo e l'azione di gestione di Matteo Salvini a guida della Lega Salvini Premier, quella che è nata sulle ceneri della FU Lega Nord. Ebbene, da tanti sta venendo una critica abbastanza pesante all'operato del segretario nazionale, il quale sarebbe stato colpevole, sarebbe colpevole di aver sottovalutato quelle che sono le necessità dei territori produttivi del nord Italia e soprattutto del fatto che la sua politica verso una Lega nazionale si è rivelata abbastanza inconcludente, in quanto da Roma in giù e anche dalla Toscana in giù il raccolto in termini di percentuali, in termini di consenso da parte della Lega è decisamente sotto le aspettative, per non dire deludente. E da molti si reclama un po' il ritorno alla Lega delle Origini, a quella famosa Lega Nord che a livello territoriale aveva raggiunto un notevole successo dal punto di vista elettorale che adesso si sta squagliando come neva il sole proprio perché non c'è più nessuno che si occupa in prima persona e a tempo pieno di quelli che sono le problematiche espresse dai territori più dinamici e produttivi del paese come quelli del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna e quant'altro. Ebbene, proprio in questi territori si sta covando anche un risentimento perché si sono sentiti traditi dal fatto che a quattro anni di distanza del referendum dell'autonomia del 2017 di autonomia ancora per le regioni che l'avevano chiesta a partire dalla Lombardia e dal Veneto, cui dopo si era aggiunta con un escamotage anche la regione Emilia Romagna, di autonomia appunto non se ne vede assolutamente la concretezza. E questo pesa non poco anche perché in questi territori, Lombardia e Veneto soprattutto, di anelito per l'autonomia c'è sempre stato, c'è sempre stata una volontà di autogoverno, di autodecisione delle cose che importano alla popolazione locale e soprattutto un'autodecisione accompagnata anche dalla maggiore gestione delle risorse economiche generate sul territorio. E non per niente questi due territori sono quelli che hanno il maggiore residuo fiscale in quanto tra quello che pagano in tasse e quello che ricevono indietro da parte di servizi da parte dello Stato, servizi che tra l'altro sono sempre abbastanza deficitari, c'è un abisso. E proprio con l'autonomia si voleva andare a ricucire questo abisso e ridurre le differenze tra quello che il territorio genere e paga e quanto riceve. Ovviamente senza rinunciare al discorso della solidarietà nazionale e dell'aiuto alle realtà che sono meno ricche da questo punto di vista. Però non bisogna sempre intendere il meno ricche, quel meno capaci e soprattutto con meno volontà di voler crescere e di evolversi. Perché in tante realtà d'Italia c'è ancora un'invalsa tradizione di quella di mettere fuori la mano e aspettare che qualcuno la riempia. Invece che tirarsi sulle maniche come spesso volentieri si fa nelle regioni del nord. Ma il problema è anche quello di capire quello che vuole fare la Lega in futuro. Perché come si è detto l'esperienza della Lega nazionale non ha avuto successo. E da questo punto di vista da parte di molti si avanza il discorso di creare una Lega federale. Ma ancora meglio di creare in Italia quello che è il modello CSU-CDU già sperimentato con successo in Germania. Quindi una Lega Nord molto forte in quella del suo territorio tradizionale di elezione, quindi le regioni del nord Italia. E una struttura che potrebbe essere una Salvini Premier, non chiamiamola Lega questa, che lavora in sinergia, in federazione, in collaborazione con questa realtà di carattere nazionale. Quindi una struttura nazionale afferente alla figura di Matteo Salvini, che ha voluto questa esperienza non salutata dal successo della Salvini Premier, con una Lega Nord invece molto ben radicata e forte nei territori storici di elezione. Potrebbe essere una quadratura del cerchio per cercare di avvicinarsi ai prossimi appuntamenti elettorali locali e con le regioni Lombardia e Veneto tra pochi mesi si va al voto, per poter essere forti e essere molto radicati. Una struttura che a livello nazionale invece sta dimostrando di avere parecchia defiance, come anche dimostrano i sondaggi elettorali che sono prodotti ogni settimana. E si vede il continuo declino del consenso, in termini diciamo di intenzioni di voto, da parte del popolo rispetto all'azione politica dei Salvini. E infatti se andiamo a vedere il sondaggio SVG della scorsa settimana, vediamo che Fratelli d'Italia si consolida come primo partito d'Italia con il 20,7%, seppur con una piccola tendenza in calo dello 0,4%. Mentre, udite udite, il partito democratico, forte anche dei successi delle amministrative della tornata elettorale delle scorse settimane, è riuscito a superare la Lega di Salvini, che si piazza ormai al terzo posto, da primo partito che era solamente un anno e mezzo fa. E appunto con il PD di Letta che si piazza al 19,7% con una crescita del più 0,5% e una Lega ormai che cala sempre di più piazzandosi al 19,2% con una perdita dello 0,2% su base settimanale, con un movimento 5 stelle che è stabile al 16,6%, attorno sempre a quota 16, con una tendenziale di leggera crescita dello 0,2%, così come Forza Italia si consolida sempre intorno al 7%, con un 6,8% e una filazione dello 0,2%, mentre Azione guadagna qualcosina 0,2% piazzandosi al 4,1%. Tutte le altre forze politiche da Movimento Articolo 1, Sinistra Italiana, Italia Viva, Più Europa, Verdi e altre liste navigano tutti intorno al 2%, quindi sono abbastanza irrilevanti dal punto di vista statistico. Che dire, in pochi mesi Salvini è passato dal essere il primo partito con il famoso anche 34% dei consensi delle europee del 2018 all'attuale 19,2%, ha bruciato praticamente 15 punti di consenso elettorale, non poco per un politico e un risultato di questo genere dovrebbe tenerne in stretta considerazione, anche perché queste intenzioni di voto evidenziate dai sondaggi sono state praticamente confermate dalle elezioni amministrative e questo dovrebbe essere un segnale di estremo allarme dagli occhi di un politico. Cari amici vicini o lontani, vi avevo accennato in apertura di come il nostro Domenico Lacave vede la situazione, andiamo a darci un'occhiata. Quella di Salvini ormai è una corsa in retromarcia e tra i vari protagonisti del mondo animale che vanno in retromarcia c'è sicuramente il gambero e in questo caso qua vediamo appunto due animali, un rospo e un gambero che si parlano tra di loro. Capitone, dice il rospo al gambero Salvini, Salvini naturalmente che si contraddistingue sempre dal mojito in mano, in questo caso nella chela, magari gambero e infatti continua a camminare indietro lungo una strada dove ci sono i pali della luce con sui vari cartelli primo, secondo e terzo, i vari step che Salvini sta percorrendo a ritroso, aggiungendo appunto adesso al terzo posto nella classifica delle intenzioni di voto degli elettori. Cari amici vicini o lontani, anche questa puntata lo schiaccia sa si giunge al termine, prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi nel nostro canale per darci la forza di andare avanti con questa voce libera, autorevole e soprattutto fuori dal coro. Da parte di Stefano Elena un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao!